Beautiful, grande sorpresa, negativa, per i fan. Volto noto della famosa soap opera abbandona per sempre la serie e in maniera anche polemica I fan sono disperati. Il famoso volto della fiction più longeva della televisione italiana e internazionale, Beautiful, si prepara a dire addio per sempre alla serie Ecco perché. Beautiful, fan disperati soap opera statunitense creata dai fratelli Bell, Beautiful si può considerare senza dubbio tra le più longeve della televisione italiana e del mondo In onda dal 1987, tiene compagnia ai telespettatori di oltre 100 paesi e ancora oggi, dopo tanti anni dalla prima messa in onda, continua a raccogliere dati di ascolto impressionanti con oltre 600 milioni di telespettatori ogni giorno e da ogni angolo del pianeta La serie ha vinto ben 311 dei Time Meme Awards e si è classificata per tre volte come miglior serie drammatica negli anni dal 2009 al 2010 e 2011 La trama è complessa e si sviluppa attorno alle vicende sentimentali, private, attorno a tradimenti e crisi che coinvolgono la famiglia Forrester, la proprietaria della Forrester Creations, composta da tanti componenti Con oltre 10.000 puntate all'attivo, Beautiful continua a riscuotere lo stesso successo degli esordi Arriva proprio nelle scorse ore, però, una notizia che lascia i fan scioccati, volto noto della soap ha deciso di abbandonare la serie e non senza polemiche Ecco di chi si tratta e perché ha preso questa decisione.Chi è il volto noto della soap che lascia la serie dopo tanti anni nella famosa soap Beautiful, un volto noto della serie ha deciso di lasciare la trasmissione per sempre Stiamo parlando dell'attrice Rena Soffer che interpreta il ruolo di Queen Fuller, la moglie del famoso Eric Carter e nemica per la pelle di Brooke Logan La donna ha annunciato di voler abbandonare la soap scatenando una serie di polemiche Le ragioni che l'hanno indotta a prendere questa drastica decisione sono piuttosto particolari Insomma, una frecciatina al vetriolo da parte di Rena nei confronti della produzione e regia di Beautiful che ha deciso di togliere spazio al personaggio di Queen e di proporle un accordo particolare Fa rientrare la moglie di Eric Carter solo in taluni episodi e a distanza di mesi o anni Dice ancora la famosa attrice che è un fiume in piena, i fan dunque devono abituarsi alla dolorosa idea che Queen Fuller non farà più parte della storica soap Chi entrerà al suo posto? Ormai questo non è più un problema di Rena che ha deciso di esplorare nuove strade Mancati accordi con la produzione hanno cancellato per sempre dalla serie lo storico volto di Beautiful Che tristezza E infine, grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Ciao